che mo c'hai tutto guardati c'è nuova reagan vero eh? bello cosi eh? ah minigun io io c'ho un frio un attimo non finisci qui a quello voglio provare io che figata aio aio andiamo vada di cadaveri se ci vuole beh ma trovo di ciò che è il prezzo e a me non c'è altro modo non c'è altro modo fanno eh ma non c'è la non c'è non c'è non c'è Dove è strano? Siamo alla porta del pack up punch Può essere qui, può essere Niente, double tap Vabbè l'app acampo Non c'è No fidati, bisogna scendere lì per forza Va bene Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è non ho visto